Allora ragazzi, oggi vi presentarò i pupazzetti di piante contro di animatroni. Incominciamo, Golden Freddy, Wild Red, Bonnie che ha perso la sua testa, Mungle, poi loro due, Fresh Endgame, tutta la famiglia, Music Man, eccolo qui, moltissimo lo so, poi c'è Baby, poi ho fatto Springtrap qui, l'altra Baby di nuovo, Lei? Forza! Questo? Il nuovo Mungle, questi tre, Mungle, Phantom Mungle, Puppet piccolo, Nightmare Cupcake, Power Guy, Wild Red Cheek, Balloon Boy Super Blue, Balloon Boy, poi loro, E poi l'altro, nuovo, tutti, Cupcake, non ho scritto bene Cupcake. Non so dove scrivere da piccolo, e adesso passiamo a Music Man, Adesso Puppet con Ball Boy, e adesso passiamo a Ballora, eccola qui, e l'ultimo, è la famiglia completa, la faccio vedere adesso. Ecco, e questi sono tutti i pupazzetti che ho fatto intorno. Se vi sono piaciuti, allora iscrivetevi al canale. Gaby Fanta Adesso Ciao a tutti ragazzi E adesso E' Balora quella Allora la fania sempre Valore Poi Balloon Boy Music Man la togliamo Togliamo la fania completa qua Quell'altra Balloon Boy Novo Anna Lui Letta Raducirca Lo so che è di tessima Lui Con lei Adesso il Popper Dime Lo togliamo La Nightmare Cup Ok Questo qui Fanta Mango Poi Mango Qua Puppet Balloon Boy E anche Mango Adesso Baby Togliamo più Springtrap L'altra Baby Che è fatta male Music Man Trascendina Trascendina L'ora bua Sempre grazie